Rivergaro è tra i comuni più cardioprotetti della provincia di Piacenza, il paese e tutte le frazioni contano complessivamente la presenza di 18 defibrillatori, di cui 4 in dotazione alle auto della polizia locale e uno presente presso la caserma dei Carabinieri. Sono frutto di donazioni di privati, associazioni o aziende, mentre l'amministrazione comunale si fa carico di tutte le spese di gestione. A Rivergaro abbiamo circa 18 defibrillatori, defibrillatori che sono stati acquistati da singoli, da privati, da cittadini o anche da ditte e poi donati proprio all'amministrazione comunale che in questi anni se ne è fatta carico con manutenzione e quant'altro. Noi quest'anno abbiamo stanziato circa 5.000 euro per quanto riguarda la manutenzione dei defibrillatori e altrettanti per quanto riguarda il noleggio dei defibrillatori. Quindi noi andremo a sostituire, quindi a carico dell'amministrazione, quei defibrillatori che hanno più di 12 anni che sono sul territorio rivergarese. Un defibrillatore è presente nella piazza principale di Rivergaro, uno accanto alla chiesa, ma l'unica area che resta scoperta è quella delle rive del Trebbia, dove però si reversono soprattutto d'estate migliaia di piacentini e turisti. Era presente un defibrillatore nella zona dell'Info Point, la zona feste, chiamiamola così, ma purtroppo è stato rubato. Quindi la necessità di un defibrillatore in più è assolutamente vera. Molte sono le feste che si organizzano sul lungo Trebbia, sia nella zona dell'Info Point che appunto dove c'è il parco giochi. Tanti sono i turisti che venerdì, salto e domenica affollano le nostre rivergaro, quindi sia effettivamente un defibrillatore in più o forse due servirebbero. Da qui l'appello a chi volesse farsi carico delle spese di acquisto sarebbe di fondamentale utilità e importanza posizionare un prezioso strumento salvavita anche in un luogo solitamente preso d'assalto. Se qualcuno volesse farsi carico dell'acquisto del defibrillatore, noi come amministrazione, come diciamo a coloro che poi ci danno in gestione del defibrillatore, ci prendiamo cura di tutto quello che è la manutenzione. Quindi l'acquisto lo fa il privato e il comune poi si occupa di tutto quello che è la manutenzione e la gestione poi futura del defibrillatore. Grazie a tutti.